Due mesi per essere operati ad un'ernia del disco, 14 mesi per una mammografia. Solo 4 mesi, si fa per dire, per una carcinoma alla vescica, 20 per ottenere una visita psichiatrica. Le liste di attesa nella sanità pubblica si allungano e insieme al peso, sempre più gravoso dei ticket, allontanano gli italiani dal servizio sanitario nazionale. Se c'è una novità insomma è che le politiche attuate negli ultimi anni per cercare di affrontare il problema non sembrano aver inciso positivamente. La denuncia viene dal rapporto del Tribunale per i diritti del malato presentato a Roma. Che siano esami diagnostici, visite specialistiche, operazioni o addirittura protocolli di cura per terapie oncologiche, la storia non cambia. Dall'indagine emerge che delle oltre 24.000 segnalazioni volontarie da parte dei cittadini, quasi un quarto riguarda le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie e tra queste il 58% è relativo alle interminabili liste di attesa. file lunghe e malgestite con episodi di inutili ricoveri per esami pre-intervento o di situazioni cliniche che si aggravano. Ancor più allarmanti sono i lunghi tempi anche per iniziare o proseguire terapie radio o chemio. Andando a vedere i tempi medi di attesa per gli esami diagnostici, si scopre che per la mammografia sono passati dai 13 mesi del 2012 ai 14 del 2013, per la colonoscopia da 9 a 11, per l'elettrocardiogramma da 6 a 9, per la risonanza magnetica da 8 a 9 e per la TAC sono addirittura raddoppiati da 6 a 12. In molti casi i pazienti hanno abbandonato il pubblico per passare al privato, naturalmente a loro spese. I cittadini denunciano l'insostenibile peso del ticket, dunque una sanità pubblica più costosa. Nati come sistema per calmirare i consumi, sono diventati una vera e propria compartecipazione alla spesa sanitaria. Questa politica sta spostando pazienti e introiti dal pubblico al privato, perché ormai non è più conveniente.